E' un aeroplano! Proviamo di nuovo! Ecco come va su strada la Cupra Ateca nella versione Tribe Edition da 300 CV, caratterizzata da un look distintivo che pone al centro la sportività. A spingere la vettura è infatti il motore 2000 TSI da 300 CV e 400 Nm di coppia massima, abbinato alla trazione integrale 4-drive e al cambio DSG a doppia frizione a 7 rapporti. Il SUV spagnolo regala delle belle sensazioni e il divertimento è assicurato grazie anche al bel sound del motore. Il limite è quello di derivare da un modello non sportivo e a baricentro alto, quindi nelle curve l'inserimento è meno agile rispetto ad altri modelli sviluppati al 100% per la sportività. Comunque dentro si sta comodissimi, prezzo a partire da 58.800 euro. Presentato a Roma un esemplare unico del Super SUV allestito per trasporto organi e servizi speciali. E' stata infatti consegnata in piazza del Viminale la Lamborghini Urus Performante, donata dall'azienda di Sant'Agata Bolognese alla Polizia di Stato. L'autovettura entrerà in servizio nel 2024. La Scenic si rinnova cambiando carrozzeria e tipologia di alimentazione. Basta forme da monovolume, ora il nuovo modello è un crossover che è spinto da motorizzazioni solo 100% elettriche ed è disponibile in due versioni da 170 e 220 CV con autonomie da 420 o 620 km come dichiarato dalla casa. Ducati e Bentley hanno realizzato una nuova moto in edizione limitata che celebra il meglio dei due brand. Sarà realizzata in serie numerata di 500 esemplari più altri 50 in esclusiva per i clienti della casa automobilistica. Per i dettagli Ducati ha tratto ispirazione dalla Batur che è l'auto di produzione Bentley più potente di sempre. Calvè, nelle case degli italiani da 50 anni, neanche un boccone è andato sprecato. Calvè, perché buono può diventare buonissimo. Calvè augura tutti buone feste. Nuovo Toyota CH-R Scegli di distinguerti. Ogni scelta conta. Italia! La storia già la conosco. Il Natale è una storia che non ci stanchiamo mai di ascoltare. E che storia? E su Italia 1? Molti non credono a Babbo Natale. Che cosa? Non ci stanchiamo mai di raccontare. Non mi chiedi come mai me ne vado in giro con un elefante. Dobbiamo portare i draghi in un posto dove nessuno li può trovare. Andiamo a festeggiare. Tradizionale appuntamento con il cinema delle feste. Tutti i pomeriggi, solo. Sicuro che non staresti più comodo nel letto di sotto? Su Italia 1. Cristalini Firefighting Systems. Sistemi ad alta pressione per il primo attacco al fuoco. Firestop. Ideale in ambienti aperti. Leggero. Facile da usare. Efficace. Con tecnologia Water Mist. VJFE per ambienti chiusi. Perfora ogni materiale in pochi secondi. Sicuro. Veloce. Innovativo. Cristalini Firefighting Systems. Made in Italy. È dall'incontro tra la natura e il genio italiano. Che è nata Filtrofiore Bonomelli. Un profumo intenso. Un sapore inconfondibile. È dall'incontro tra la natura e il genio italiano. Anche il benessere delle tisane e il gusto degli infusi. Bruciore di stomaco e cattiva digestione? Malox Plus agisce velocemente contro i sintomi della cattiva digestione. Quando lo stomaco la prende male, puoi prendere Malox Plus. Natalissimi 1 euro. Ultima favolosa sorpresa per i tuoi regali. Solo per oggi. Lo smartwatch Samsung Galaxy Watch 4 40 mm Bluetooth è tuo a 89 euro. 1 euro. Buone feste sempre. Tu che sai prenderti cura delle cose che amo e di ciò che mi circonda. Con piccoli gesti e grandi attenzioni. Tu che mi abbracci. Con la tua morbidezza e il tuo profumo. Che sa di casa. Tu che sei la mia spuma. Spuma di champagne. Amica di ogni mio gesto. Colesterolo? Prova Colesterol Act. Colesterol Act contribuisce a mantenere i livelli normali di colesterolo nel sangue. Se fatichi ad addormentarti e sei stressato, non contare le pecore. Conta su Melatonina e Valeriana Act. Il buon sonno ha soli 9,90 euro. Aspetta! Fallo tostare ancora un po'. Ehi, dove guardi? Sono qui. Il riso va tostato bene bene per saldare i chicchi. E poi quello cos'è? Vino rosso. Nel risotto alla milanese ci va il vino bianco. Bianco. Ma con chi stai parlando? Con Curtiriso. Curtiriso, il grande classico italiano. Non l'ha mai fatto un risotto così? Non l'ha mai fatto un risotto così. Tra le detrazioni fiscali del 50% ti dà la possibilità di finanziare i lavori a tasso 0, TAN 0 e TAEG 0 o di ricevere uno sconto immediato del 10%. Chiedi un preventivo gratuito. L'offerta scade il 29 febbraio. Scegli anche tu il numero 1 delle ristrutturazioni in Italia. Facile ristrutturare. La nazionale delle ristrutturazioni. Nel mio lavoro le innovazioni sono semplici e veloci. Così, anche per i dolori muscolari e articolari, vado dritto al punto con una schiuma. Di cloreum antinfiammatorio locale 3% si assorbe rapidamente e agisce a lungo. Schiuma di cloreum antinfiammatorio locale. Dritto al punto contro il dolore. Oppure in cerotti di cloreum unidie 24 ore di sollievo. E' burro, soresina, latte e panna. Solo panna di latte. Fresca, fresca. E tu ci credi? Vediamo quanto ci deve. Vai, vai. Ci credi adesso? Sì. Burro, soresina, latte e panna. C'è più bontà nella verità. Allora. Ruggero? Presente da 130 anni. Ruggero? Eccomi, patata super controllata. Antonio Ruggero, dal 1889. La famiglia delle patate. C'è l'influenza da principessa. E il raffreddore hard rock. VIVIN C agisce rapidamente contro il raffreddore e i primi sintomi influenzali. Con vitamina C per le difese immunitarie. Per i tuoi EC. Puoi provare VIVIN C. E poi c'è la febbre del venerdì sera. E i dolori stellari. VIVIN DUO può iniziare ad agire dopo 15 minuti contro febbre, congestione nasale e dolori influenzali. VIVIN DUO. E puoi tornare a fare il tuo. L'acqua è un dono della natura. Preziosa per la nostra idratazione, nutre il nostro benessere ogni giorno. Dai valori di San Benedetto nasce Eco Green. Un impegno di sostenibilità, puro come l'acqua. Proteggi la natura con noi. Italia! Signora Cooper! Per i suoi piccoli problemi? Signora Hamston! Non basta certo una babysitter. Le serve un miracolo! Come faremo adesso? Ci vuole... Il signor Webster? La magia del Natale. Niente domande intesi? Per i ragazzi è Tata Miracolo. Miracolo. Quando c'è lei, hai la sensazione che andrà tutto bene. Una Tata Magica. Martedì alle 21.20 su Italia 1. Bentrovati a questo appuntamento meteo. Nei prossimi giorni non ci saranno grossi cambiamenti. Questo significa che ci attendono delle feste di Natale, quindi Natale e Santo Stefano con piogge e nevicate praticamente assenti, un po' di nebbia nelle ore notturne e del primo mattino e temperature sempre al di sopra della norma. In particolare, guardate le temperature massime previste a Natale, quasi dappertutto, comprese tra 9 e 20 gradi, quindi insolitamente miti per il periodo. Per maggiori dettagli consultate il nostro sito meteo.it. Questa è la strada per Antler Ridge. Sì, avevo racconto.